Lancio davanti Suizekor, palla portata giù, molto bene, buona cassaforte, devono togliersi il numero 4 irlandese Karen Klein, era scivolato, molto vicini all'obiettivo e arriva finalmente la meta, ora vedremo chi si rialza con la palla. Tiziano Pasquali, 12 Curtis, poi si ritorna verso destra, c'è forse l'uomo in più all'esterno, riesce a recuperare la difesa e tenere alto anche, placato però dice l'arbitro, altra botta ravvicinata con il numero 7, Alster si fa possesso ma non guadagna metri, rimane lì. E inizia un buon placaggio questo, basso. Ora prova la soluzione al piede con un bellissimo assist e offload all'interno per l'uomo che si avvicina e riesce a schiacciare alla fine. Abbiamo fatto una bella meta questo, davvero tutti dentro. Tentativo di raggruppato, spinta in carrettino di Alster, ben contenuti. Primo stop, dice l'arbitro Vedovelli. Alster che deve giocare, bloccato sul nascere. Finta di usare la seconda linea d'attacco. E poi prendono un po' di abbrivio i giocatori irlandesi. Ancora, ancora, ancora. Crothers, altra carica frontale. Poi il tentativo di far vivere la palla. Ancora lotto. Viene fermato in tempo da un doppio placaggio. Occhio che sono tanti, sono tanti. Poi palla fuori dove c'è l'uomo libero. Superiorità, addirittura doppia superiorità numerica all'ala. C'è spazio. Da Uren a Umaga che trova il canale giusto. Perriera che avanza, rimane in piedi e poi palla all'esterno e arriva la meta di Ratave. E serviva una bella risposta che è arrivata. L'avevamo visto, ci sono gli... Questa volta è andato... E c'è, c'è, c'è. Ci sono rimasti. Va a lanciare, ci sono stati dei cambi. Sì, è entrato Stewart. È entrato il tallonatore Stewart nel giro della Nazionale. È stato nella squadra che ha preparato la Coppa del Mondo. Poi è stato uno degli ultimi tagli. Occhio. Una delle squadre più forti del Mondiale. Ed è proprio lui a tentare la ripartenza. Puede arrivare vicinissimo alla linea di meta. Bene, bene, bene. Altra bocca. Ma la difesa sulla trincea regge. Pick and go affossato immediatamente. Ma c'è un fallo. Qua occhio fuori gioco. E qui arriva, arriva di slancio di avanzamento. E poi riparte sulla fascia Ratave, attenzione. Tutto da solo, sì, sì. Se ne va. E da dentro a Umaga che va a chiudere. Bellissimo. Azione sulla fascia destra. Cosa si è inventato qui Ratave. Mamma mia. Köhlenberg. No, scusate, Sneeman. Sempre solida. Anzi, tenta una controspinta. Costretto a una uscita d'emergenza. Qui il mediano. Poi arriva un placcaggio. Bravo. Comunque il numero 23 dell'Alster a resistere e fare altra strada. In partenza sull'asse qui del mediano. Viene per fortuna tamponata in tempo. Ma c'è voglia di andare proprio. Oh, qui si è tuffato. Batte la difesa qui, la linea esterna. Fuori. Fuori. Questa è una seconda linea, eh? Finisce in mano a una seconda linea che riesce però a superare il placcaggio. Bequos. Eh, qua in avanti. Vai on. Vai on. Il tocco di mano qui della Benetton era all'indietro. Rimane saggiamente a navigare. Uh, bravo, bravo. E c'è la copertura di Aldo. Palla stoppata al piede a centrocampo e poi dritto per dritto la carica del grosso. Su cui arriva il placcaggio ma c'è comunque l'avanzamento di Alster che allora dà una seconda scossa. Bene, bene, bene. Qui tenuto alto quel tanto che basta da Lazzaroni. Qua giusto. Eh, giocato veloce, occhio. Clearly on the ground, sei chiaramente per terra. Schiaffeggi via il pallone. Giallo. Purtroppo c'è stato l'ottimo intervento di Lazzaroni e l'improvido. Non so. Un provido. Ma lui è chiaramente per terra, schiaffeggi al gioco. Smanacciato. Siamo al sessantottesimo. Lancio irlandese in mezzo. Treviso che rinuncia a saltare per assicurare la controspinta. Puntellano come possono le maglie bianco-verdi. Eh, loro sono molto validi qua nel drive. Primo stop. Bene, bene, bene. Devono giocare qui. Break away! Break away, nice. Sì, sì, controlliamo. Invece tentano di spingere. Poi si sgancia. L'uomo a fondo, Mool. Dobbiamo rallentare il pallone. Vanno a tentare lo sfondamento con assistenza. Dobbiamo rallentare il pallone. Cambio di lato. E il tuffo basso che... Carrettino nell'aria. Sì. Buono il lancio. Buono, sì, sì. Spinta disassata sul sinistro. Che non trova opposizione. Da scuola. Veramente... Buonissimo. Buonissimo. Grazie a tutti.